Buongiorno, oggi ci troviamo nel bellissimo territorio di Lago Lasceno, la neve ancora vergine e purtroppo dobbiamo assistere a queste scene pietose dei nuovi arrivi che stanno mettendo le ciaspole, guarda qua, guarda qua come stanno, stanno uno per genare, ragazzi salutate ragazzi, salutate, come procede il montaggio ciaspole? Ma sto culo di chi è sto culo? sto culo di chi è? culo? ma sto culo di chi è? e girati, saluta la telecamera, no non si può fai vedere se io scuono il guagliono il golpe non lo so non lo so non lo so Scusate, ma dove siete i diretti? Camminate, camminate, camminate Ciao Dove va? Come si chiama? Un fiorino Sì, sì Toscano Sempre dritto Avete portato la bottiglia di vino? Voi siete gli ultimi? Siete molto furbi Sfruttano la scia C'è qualcuno più furbi qua? Eccolo lì Abbiamo Carmen Tumba La sorella di Alberto Tumba Mi momero Faccio da me I bambri a capa non fa male Ma so che sbaglierò Ma senta bene il resto non ho so Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.